Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning, in questo nuovo video andremo a vedere come montare la Isudar o perlomeno cercherò di farvi vedere passo passo come montarla. Io ho già la macchina tutta smontata, pronto per farvi vedere tutti i gablaggi, ho già provato la radio per qualche settimana e vi posso assicurare che funziona tutto correttamente, adesso l'ho smontata in occasione dell'arrivo della nuova dashcam che vedrete in un nuovo video perché se no si allunga troppo e quindi niente, intro e cominciamo subito con lo smontaggio. Ok ragazzi, ci troviamo quindi con la radio smontata, come potete già notare abbiamo soltanto il gabbiotto metallico di sopra, quello di sotto invece che tenete nella centralina dove mi l'ho tolto, la centralina è stata spostata qua sotto e alloggiata in maniera tale che non si muova e che non crea disturbo. Come potete notare questo è il cavo di alimentazione che viene dalla macchina e questo è la matassa di cavi della Isudar. Come potete notare ho già praticamente fascettato tutto in quanto già è stato testato e funzionante. vi faccio vedere brevemente i collegamenti da fare, non sono molti però comunque è giusto che lo sappiate. Questa è la centralina canvas che va ovviamente collegata e poi ci ho messo intorno questa fascetta di tessuto per evitare che faccia rumore quando magari batte da qualche parte con le buche. Poi un'altra cosa importante è il cavetto giallo che esce dalla centralina canvas che va collegato, come potete notare, a questo cavo. Per l'esaltezza dovrebbe essere questo qui, questo cavo giallo che sta accanto all'arancione e accanto al nero che poi dovrebbe essere quello dell'alimentazione, il sotto chiave che troviamo dall'altra parte però non ne sono sicuro al 100%. Comunque in questa maniera ragazzi funzionano i comandi al volante e tutto il resto. Altro piccolo collegamento che ho fatto è collegare il cavetto blu dell'antenna con questo piccolo amplificatore di segnali che ho comprato su Amazon. L'ho comprato in quanto inizialmente non funzionava l'antenna, quindi dico magari è un problema di radio, compro un amplificatore e risolvo. Non è così in quanto avevo proprio l'antenna rotta all'interno quindi alla fine ho risolto aggiustando il cavo dell'antenna originale della macchina e quindi alla fine visto che comunque l'amplificatore di segnali ce l'avevo, ce l'ho messo. Inoltre è comodo perché si è allungato un pochino il cavo dell'antenna che è veramente corto e scomodo. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questo, questo gruppo di cavi. Questi sono i cavi che ci serviranno per collegare eventuali aux ma soprattutto la retrocamera posteriore che ora qui non lo vedete perché ci ho messo il cavo in tessuto ma sotto è semplicemente un cavo giallo collegato con il cavo dell'antenna che viene, eh sì, dell'antenna della retrocamera che viene da dietro. Che altro posso farvi vedere? Vi faccio vedere questo è il cavetto un altro cavo che andremo a collegare alla radio che è il cavetto delle porte usb. Ce ne sono due che vanno a finire collegate qua sotto. Questo è un altro aggeggino che ho comprato su Amazon che poi devo sistemare meglio qui sotto. È molto gagliardo, poi vi lascio il link in descrizione se gli volete dare un'occhiata. E poi questo ha tre usb, due sono collegate sotto e alla terza questa qui ci ho collegato il cavo usb della dashcam ma casomai farò un video a parte per questo. Il cavetto della dashcam comunque farà il solito passaggio sotto il cassetto del portaggetti, poi salirà sopra il montante, sopra il cielo e poi metterò la dashcam sotto allo specchietto. Altri cavetti che vanno collegati sono ovviamente questo qui per l'antenna del GPS per il navigatore e poi abbiamo un'altra cosa, l'antenna del wifi che non mi ricordo dove l'ho messa e basta. Una volta che abbiamo sistemato tutti i cavi della radio all'interno della macchina facciamo un passo in avanti. Bisogna togliere la gabbietta metallica originale della macchina e fare una piccola modifica, ovvero va tagliato un pezzo di lamiera come potete vedere dall'immagine in quanto quel pezzo va a coprire delle entrate per degli spinotti che ci serviranno, soprattutto quello in alto a destra è essenziale per chi ha la retrocamera e per chi vuole mantenere l'aux. Io ho fatto con un seghino per tagliare il ferro e una lima, ho tagliato quel pezzo di lamiera, poi l'ho limato bene così da arrotondare tutti i bordi, mi raccomando arrotondate tutti i bordi che andate a tagliare in quanto quei bordi saranno molto sottili e taglienti, quindi se con le vibrazioni il cavo poi si va a tagliare succedono casini, quindi arrotondate benissimo i bordi in maniera tale che non succeda niente ai cavi che potrebbero andare ad urtare con quei bordi. Se non volete usare seghino e lima usate un frullino, io non lo avevo a disposizione, con un frullino ci mettete un minuto, con il seghetto per il ferro ci vuole un po' di più perché è bella tosta. Quindi una volta fatto ciò bisogna togliere anche questo pirulino dalla foto che vedete in gomma con la staffetta dietro, in quanto quando va a urtare con la radio, con la parte inferiore della radio, diciamo si crea un corto, ecco non ho ben capito, non so bene come funziona però da quello che ho analizzato la parte retrostante della radio è fatta di un metallo nudo rispetto a tutta la scossa, tutta la scocca scusatemi, che sembra divestita come questa staffetta, mentre quella parte che c'è il gommino ci sta una vite in metallo nudo e quando va a contatto con il retro della radio scompare il volume, quindi io l'ho tolta. Ora possiamo collegare tutti gli spinotti alla radio, io procedo da sinistra verso destra, è indifferente insomma, i cavi sono quelli, vanno collegati come più comodamente vi trovate, tanto alla fine non cambia nulla in questo passaggio. L'unica cosa che vi faccio notare è che qui ancora avevo quel gommino dietro la radio e il gabbiotto ancora non era tagliato a dovere, vi dico soltanto che ho smontato e rimontato il gabbiotto e il radio una decina di volte, mi sono veramente impazzito e spero davvero che con questa guida voi riusciate a montare la radio in pochi minuti perché in questa maniera dopo aver fatto il video posso assicurarvi che è veramente facile e veloce montare questa radio. Io non avevo nessuno e mi spiegasse le cose, ho fatto tutto da solo, quindi diciamo errore dopo errore, ostacolo dopo ostacolo, sono riuscito ad arrivare alla conclusione finale che è veramente buona e perfetta per le mie esigenze e per la nostra cara mitozza. Ovviamente funziona tutto, lo vedremo insieme dopo questa clip e ovviamente lasciate un mi piace per tutto questo sbattimento che ho avuto per montare questa radio perché ci ho messo veramente tanto e tante bestemmie. Ragazzi finalmente siamo giunti alla fine del video, dopo tante sofferenze e tante bestemmie sono riuscito a montare finalmente la Isodar, non è stato semplice, ho incontrato un problema dietro l'altro, però voi con un bel tutorial con questo bel tutorial riuscirete a montare la radio senza problemi anche perché senza tutte queste cose che mi sono capitate sarebbe stato veramente banale montare la radio. Quindi spero che il video ragazzi vi sia piaciuto, ovviamente vabbè accendiamo il quadro così vediamo che tutto sia in regola, come potete notare la radio si è accesa e non lampeggiano i chilometri, vediamo i tasti al volante funzionano, la musica funziona, questa è la nostra radio, mettiamo una cosa dove parlano ok, perfetto, basta, se no il copyright qua mi uccide, poi ho già messo un po' di applicazioni e poi magari vi faccio un video su come mettere Spotify, Graccato, ne avevo già fatto uno però ne ho fatto un altro, questo è col tema giallo ma ci sono tanti altri temi colorati, poi vi farò sapere se funziona Waze, non l'ho mai provato sinceramente, ci sono anche altre piccole cosucce da fare, inoltre lì ci sta il capo della dashcam che ancora devo montare, arriverà un altro video a riguardo, quindi niente ragazzi spero che il video vi è piaciuto, se avete consigli su un po' di video da fare sulla Isudar lasciatemi nei commenti, per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, supportatemi su Instagram seguendomi, link Mitch Tuning, per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi